lele ha voglia di un bel panino vediamo come lo chiede alla mamma mamma mi fai un panino per piacere lele secondo voi è così che si chiedono le cose diamo a lele un'altra possibilità questa volta userà una parolina speciale sentite mamma mamma ho fame voglio un panino amore certo ti faccio il panino più buono del mondo ora va molto meglio quando si dice porcordio cambia tutto anche geova chiede le cose così e ora che hai avuto il panino lele come si dice sei una troia bravo ricordati di dire sempre grazie porcordio e non dimenticarti di ringraziare geova grazie a tutti